Per commentare, gli ultimi 30 secondi della partita, partiamo da lì, poi analizziamo una gara che forse non è stata bellissima. Beh, gli ultimi 30 secondi sicuramente sono stati stupendi, siamo riusciti a vincere la partita al 95esimo, quindi è una grande gioia, insomma. Se dobbiamo trovare una chiave positiva, diciamo che nell'ultimo quarto d'ora il Pescara ha schiacciato l'Olbia, se però dobbiamo essere oggettivi dobbiamo dire che per 70-75 minuti il Pescara aveva fatto poco nulla. Poco nulla, io penso che la partita sia stata fatta, il primo tempo, molto meglio dell'Olbia e il secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Il vento sicuramente ha giocato tanto, però alla fine, insomma, abbiamo avuto, sì, loro anche loro hanno avuto delle occasioni importanti, però la Serie C è questa, dobbiamo essere cinici, si è sempre detto, loro non l'hanno sfruttata, siamo stati bravi a sfruttarle noi, abbiamo vinto, siamo tutti contenti. Ferrari come tocca la palla fa gol? È un bene, è un bene per il Pescara, Franco quest'anno veramente sta facendo un campionato stupendo, speriamo che continui così. E adesso è impossibile non parlare di quello che dovrà succedere, no? Martedì sera allo Stadio Adriatico, partita da vincere a tutti i costi per l'obiettivo terzo posto. Normale, se vogliamo arrivare terzi, cioè, dobbiamo vincere, le chiacchiere stanno a zero, dobbiamo vincere e basta, adesso recuperiamo un paio di giorni e poi martedì faremo questa bellissima partita. Però perché questo primo tempo dove il Pescara ha sbagliato, approccio, oppure l'assenza di un giocatore importante come Pompetti ha un po' condizionato un sistema che stava funzionando come un orologio bello? Ma no, Pompetti non c'è, quindi non mi va di parlare delle assenze. A proposito, ma ha preso un cartellino giallo e vendi fida? Sì, no, non lo so se non ha munito a lui, sinceramente. Però, lo ripeto, abbiamo giocato un tempo a testa, il primo tempo meglio loro, il secondo tempo meglio noi, il vento è inciso molto e quindi qualche giocatore magari non è stato, non è, non ha giocato come le altre partite, era un po' più molle, però, ripeto, dobbiamo recuperare le energie per martedì sera adesso. Auricolare per Matteassi che vi ascolta, dobbiamo essere rapidissimi Massimo perché c'è l'aereo che parte. Assolutamente, c'è Fabio Ferraresi. No, io al direttore, dall'alto della sua esperienza, ciao direttore, penso che oggi il Pescara abbia giocato un po' col freno a mano tirato proprio in vista della partita di martedì, la sensazione che ho avuto io vedendo la partita è stata questa, non so se tu da là hai avuto la stessa sensazione che ho avuto io, il fatto di magari gestire un po' le energie sapendo che poi la partita di martedì è determinante. Ma non so se sia di peso da questo, spero di sì insomma perché qualche giocatore ha giocato sotto il suo livello, non ha giocato come altre volte, spero che sia per questo ma non penso insomma, poi quando entri in campo pensi a quella partita, non pensi a quella successiva.